Ciao ragazze, nuovo video e volevo farvi vedere le consigli che ho acquistato e che ho ricevuto come regalo oggi per il compleanno Allora, da tagli ho acquistato, ve le metto così perché è buio e poi ci sono un po' di accessori quindi ve le faccio vedere così che forse si vedono meglio Allora, questo body, allora dicevo questo body che ho preso da tagli, un po' così velato nero con questi fiori Pensavo di metterlo con la cosa più o meno carina, forse non è molto carina, cioè guardate com'è fatto, non ha il coso per slacciare Vabbè, senza parole, adesso faccio subito una polemica alle mie amiche su whatsapp perché non è possibile Comunque molto carino con questi fiorellini un po' velato da mettere con un reggisino a fascia nero E pensavo di metterlo con i shorts a vita alta, mi volevo un body un po' carino senza spendere una cifra esagerata E questo da 9,99 l'ho pagato, 6,99, sì, saldo proprio misero Poi da sussata d'attacco, allora, inizio mi piace questo abito che è meraviglioso, me l'hanno regalato le mie colleghe Quindi ringrazio le mie colleghe che me l'hanno regalato, cioè guardate che bello E' della new collection, arriva da Gabice E' questo bellissimo abito barra maximaglia con tutti questi fiori sul pesca che mi ha fatto impazzire quando l'ho visto Poi da tacco invece ho preso questa fascia per capelli nera, tutte cose in saldo perché ho visto che c'erano un po' i sconti al 50% per saldi Costava da 3,99, 1,99, la voglio provare perché mi incuriosisce molto Poi ho preso sempre 1,99 questa, un po' più a steca con questa fantasia sul corallo e il blu Molto carina questa Poi acquisto top Questi patch fatti a spilla che ho pagato, pensavo di pagare 2,99 e mi andava benissimo Ma la cazza mi ha detto che costavano 99 centesimi Quindi subito mi hai presi, subito molto belli e volevo usarli per impreziosire quei pantaloncini che ho preso al mercato a vita alta di jeans E poi immancabili nella wishlist i miei amati choker Questa volta mi sono buttata sul bianco 1,99 l'uno, questo è tipo quelli che si usavano negli anni 90 Però è pesantino, è impreziosito da tutte queste perline Invece questo è bianco, è proprio una fascettina così con questo bellissimo fiore Cioè guardate però i particolari come si vedono meglio con il cellulare girato così Se vi piace il video fatto così con le cose posizionate sul tavolo Fatemi sapere dai Magari per gli accessori sicuramente perché vedete si vedono molto molto meglio E invece per le altre cose continuerò la mia vecchia maniera Magari voi volete vedere la mia faccia Spero che il video vi sia piaciuto ragazzi Mi aspetto di leggere i vostri commenti Se vi piacciono gli acquisti Ho un misero shopping per saldi più regalino Questo mi sa che domani se non c'è questo tempo maledetto Chiedete capire che qua ci sono 15 gradi Cielo grigio Guardate che schifo E fa freddissimo Infatti io sto vestita così e sto gelando Ci vediamo nel prossimo video ragazze Ciao